Cari amiche e cari amici, lasciamoci guidare in questa ventunesima domenica del tempo ordinario dalle parole dell'Evangelista Giovanni. Andiamo ad ascoltarlo insieme. In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero, questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro, questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù, infatti, sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito e diceva, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici, volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro, Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Vedete, sono parole chiare che non lasciano dubbi negli ascoltatori, anzi creano molto di senso, perché il discorso sulla promessa dell'Eucaristia che Gesù fece nella sinagoga di Cafarnao subito suscitò scandalo, inimicizie e incomprensioni di ogni genere, anche tra le persone che da tempo lo seguivano e avevano assistito a diversi miracoli e soprattutto avevano seguito tutta la predicazione evangelica. La riunione nella sinagoga alla fine si concluse nel tumulto e nel dissenso, ma Gesù lo ripetè ancora per l'ennesima volta che lui era il pane disceso dal cielo e chi avesse mangiato questo pane sarebbe vissuto in eterno e poi uscì fuori. Si poteva dire a quel punto che il bilancio di una giornata di predicazione era stata piuttosto fallimentare, piuttosto difficile, almeno umanamente parlando. La predicazione del maestro aveva subito a quel punto una tremenda scossa. Si crea una divisione tra lui e le folle di giudei, ma c'era di più. Molti dei suoi discepoli non credettero più alle sue parole e quindi lo abbandonarono. Allora alcuni fuori della sinagoga che erano ancora avvolti dal dubbio continuano a dire questo linguaggio è duro, chi può intenderlo, chi può capirlo. Gesù, proprio perché era capace di leggere anche nei loro cuori, disse questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo ritornare al padre da qui era venuto? solo così avrebbero compreso il vero senso delle sue parole, sarebbero stati resi edotti di quanto veramente lui stava predicando. È lo spirito, dice Gesù, è lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Ciò significa che non è tanto la carne di Gesù, ma lo spirito di Dio che riempie, che dà la vita. Ecco, la carne non è che un veicolo dello spirito vivificatore. Comunque, al di là di questi discorsi avviene un rifiuto ostinato. Nonostante la chiarificazione, molti discepoli scrollarono il capo. Allora Gesù disse, ma io vi dico che alcuni tra di voi, vi sono alcuni che non credono. Gesù allora, vedete, dopo questa espressione, trova in Pietro colui che veramente fa una professione di fede, non solo a titolo personale, ma a nome degli apostoli. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. E questa è anche la parola che noi discepoli di oggi dovremmo pronunciare. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Ascoltiamola. Buona domenica a tutti.